segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te quando giorgia fu nominata la vicepresidenza della camera credo fosse 2006 molto più di vent'anni dopo ecco arrivare quindi da vent'anni il padre non sapeva neanche che esistesse ecco arrivare la telefonata di un amico comune franco che era il nome con cui si faceva chiamare il padre cioè si fa non lo chiamava neanche figlia papà franco avrebbe avuto piacere di rivedere le ragazze giorgia sua sorella ma giorgia disse di no ve la faccio breve non ho niente da dirgli allora gad ea voglio capire perché si sparano queste cose queste sono vicende dolorosissime dolore no perché rapporti con il padre io ho avuto un rapporto complicato con mio padre per fortuna non a questi livelli rula gebreale ha avuto un rapporto drammatico con suo padre e ne ha scritto in un libro io non sto qui a ripetere ma storie pesanti monta anche quelle non dovrebbero entrarci perché ha scritto queste persone anche se non so quando io ho avuto un problema con mio padre il giornale di sallusti l'hanno messo in prima pagina ma quindi ognuno qui fa il santo e il politicamente corretto sì sì ma ma questi sono stupidaggini sono dettagli è evidente non so se si possa dire a quest'ora in televisione che rula gebreale ha pisciato fuori dal vaso ha fatto un tweet che è un tweet di una giornalista se non possiamo trasformarlo in un caso politico nazionale di fronte a una persona che ha vinto nettamente le elezioni che si prepara a fare però io vado oltre al tweet di rula gebreale voglio cercare di capire si cerca qualsiasi cosa pur di colpire l'avversario sì è questo che è intollerabile non mi pare che in questa campagna elettorale ci sia stata una personalizzazione così feroce da parte di quelli che si sono confrontati non c'è stata così come non c'è stato nessuno che ha gridato al fascismo perché vinceva fratelli d'italia c'è stato chi saggiamente secondo me ha continuato a dire state come diceva calamandrei state attenti che la libertà è come l'aria è una di quelle cose che quando c'è non te ne accorgi ma te ne accorgi solo quando comincia a mancare e questo è un altro discorso rispetto a non dimentichiamolo che i nostri nonni per conquistare la libertà hanno pagato un prezzo alto le storie che anche tu hai raccontato te lo siamo detti una volta benissimo noi vecchi partigiani di destra di sinistra questo è molto importante massimo perché tra i partigiani c'erano comunisti socialisti azionisti ma c'erano anche cattolici monarchici liberali le prime bande partigiane furono formate da ufficiali degli alpini e io vorrei ricordare anche i 600 mila internati militari in germania di cui non si parla mai che vennero fatti i prigionieri dai tedeschi portati nei lager spogliati affamati umiliati poi venne loro detto perché risultavano di vestire la divisa della repubblica vediamo una divisa tornate in italia ma dovete impegnarvi a combattere brevissimo giovanni guareschi io salò non vado e non muoio neanche se mi ammazzano quasi nessuno era di sinistra e anche quella fu resistenza massimo il libro di cui parlava prima io sono giorgia un libro che ha venduto tantissime copie cosa che quasi mai con qualche eccezione tra cui matteo renzi e i libri politici fanno questo è accaduto perché dentro c'era una storia io avevo letto in bozza il libro e ho intervistato giorgia meloni prima che il libro uscisse e aggiungeva in quell'intervista anche qualche dettaglio rispetto al libro ad esempio raggiungeva il fatto che quando il padre stava morendo espresse di nuovo il desiderio di vedere le figlie e la sorella maggiore cui giorgia meloni legatissima arianna andò e lei invece non andò mi ha raccontato io penso a lungo ho pensato che quello non fosse un problema poi ho capito che invece era il problema e che se io ero così dura e anche perché ho sofferto tanto per via di mio padre poi chissà se lei avrebbe ottenuto quello che ha fatto nella vita se non avesse avuto questa forza morale dentro non lo so di sicuro è vero che rullo algebra l'ha sbagliato questo credo che l'abbia capito anche lei però sono d'accordo con Gadd su un punto voi avete fatto bene a far vedere nel servizio il liceo occupato e secondo me è sbagliato occupare un liceo per protestare contro un stato democratico però non vedo tutto questa mobilitazione nel paese finisco quando fu letto trump io ero come ricorriere in new york la città era percorsa di continuo da correre da donald trump has got to go trump se ne deve andare poi tanti andiamo a intervistare i ragazzi avevano o non avevano votato avevano votato arambi che era un gorilla dello zoo di new york che era stato ingiustamente abbattuto come dire hanno si sono invignati a posteriori salusti salusti